Parliamo di cinema perché dall'11 al 20 luglio si è svolta la diciottesima edizione di Libero Cinema in Libera Terra. Ne abbiamo parlato prima che l'evento partisse e parliamo appunto della più longeva rassegna di cinema itinerante promossa da Cinemovell Foundation e Libera. Noi siamo proprio collegati con la cofondatrice e presidente di Cinemovell Foundation, Elisabetta Antonioni, che ritroviamo con grande piacere. Buongiorno Elisabetta, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrice e gli ascoltatori, è un piacere. Allora siete partiti da Messina l'11 luglio, la rassegna di Libero Cinema in Libera Terra si è chiusa a Torino il 20 luglio. Facciamo un po' un bilancio, tiriamo le somme come si dice in gergo Elisabetta, come è andata? Allora le somme direi che sono molto positive, non potevamo aspettarci una diciottesima edizione più interessante, con un sacco di realtà, territori, associazioni che abbiamo incontrato, quindi una condivisione e un ritrovarsi attorno allo schermo che ha ritrovato comunità e ha seminato dei piccoli semi che potranno crescere in futuro. La prima tappa a Messina è stata straordinaria. Le ragazze e i ragazzi di estate liberi avevano ripulito questo bene confiscato, un terreno enorme, a sud di Messina, nel quartiere di Milimarina, un terreno enorme che dà sul mare ed era abbandonato da 25 anni. Hanno fatto un lavoro straordinario, hanno ripulito le ragazze e i ragazzi del campo di estate liberi, insieme alle ruspe hanno preparato questo terreno che la sera per magia ha alzato il grande schermo e tutte le persone si sono ritrovate dalla mattina fino alla sera per discutere di temi legati all'antimafia, alla corruzione, al contrasto alle organizzazioni criminali che è culminato nella visione serale del film. Ma dirò di più, anche siccome c'erano tantissime persone e la parrocchia aveva messo a disposizione tantissime seggiole, tutti quanti alla fine in questo non c'è la luce in quel terreno, quindi abbiamo portato il generatore, abbiamo acceso le lucine e tutte le persone, più di 400 persone che sfilavano alla fine e portando le stagioni a posto. Ecco, vediamo le immagini. Molto significative. Vediamo le immagini. Che meraviglia. Ed è un'emozione grandissima perché persone di tutte le generazioni ritrovarsi in questo posto abbandonato da 25 anni che è un terreno di tutti. È ritornato alla comunità, è ritornato alla collettività con un piccolo seme che è la cultura, che è il cinema che porta con sé nelle serate di libero cinema. Beh, queste immagini, quello che ci stai raccontando, come dire, se questo è stato l'exploit a Messina, immagino il resto. Quindi, come dicevi, è stata un'edizione partita proprio con l'effetto wow, con il botto, come si usa dire in gergo. E poi le altre giornate, immagino, sono state un susseguirsi di bellezza, di emozioni, di confronto, di condivisione, Elisabetta? Una condivisione, una sorpresa dietro l'altra. A Modica non abbiamo scelto una piazza centrale del paese, ma siamo andati in questa terrazza che sta in mezzo a dei palazzoni di un quartiere popolare, Trappetto Nord. Lì addirittura abbiamo incontrato dei ragazzi e delle ragazze quindicenni che hanno fondato un'associazione di cinema e con loro e con l'associazione che si occupa di questo territorio, a Trappetto Nord, abbiamo addirittura scelto di proiettare sul muro in modo che quel muro diventasse dipinto di bianco per gli anni prossimi, per gli anni successivi, un punto di riferimento. Lì abbiamo scelto per esempio di proiettare cinema italiano e cinema tunisino, un piccolo corto per i bambini perché tutta la platea era organizzata in modo da ospitare anche i piccoli spettatori per i quali era stato riservato davanti un cuscinone enorme con i pop-corn, le patatine, tutto quello che è cinema e tutto quello che si può ricreare, come dice sempre Ciotti, partendo dalla conoscenza che porta alla consapevolezza e la consapevolezza ci fa scegliere da che parte stare, ci aiuta a decidere da che parte stare. Libero Cinema e Libera Terra appunto è questa rassegna di cinema itinerante promossa da Cinemobile Foundation e da Libera. L'hai chiamato in causa Don Luigi Ciotti, lo avete intervistato, vogliamo ascoltare un passaggio delle sue parole, Elisabetta. Facciamolo insieme. Luigi Ciotti, fondatore nel 1965 del gruppo Abele, prima di diventare sacerdote, una realtà associativa che era sempre impegnata in difesa per affermare i diritti delle persone più fragili di anni, ne compie 58, il gruppo Abele. Fondatore, presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, nata nel 1995 come reazione della società civile contro le stragi di mafia del 92-93 e di anni ne fa 28. Promotore con Elisabetta Antonioni e Nello Ferrieri di Cinemobile Foundation della carovana Libero Cinema e Libera Terra, che quest'anno di anni ne fa 18. Insomma, diventa maggiorenne. Ecco, prima di raccontarci le ragioni che ti hanno sprinto a sostenere questa nuova avventura, che ha traguardato 18 anni di vita, puoi dirci che cosa significa per te il cinema? A quali ricordi lo associ? Istituto per dire che io sono un co-offendatore, perché Libera è un'associazione di associazioni e quindi è stato un cammino che abbiamo costruito insieme, quel noi importante, fondamentale, che è un elemento vitale per la vita, ma per la società, per la Chiesa, per tutti i contesti. E quindi vorrei sottolineare questo noi. E in questo noi c'è stato anche un incontro, un incontro proprio col mondo del cinema, con chi lo ha sentito dentro come uno strumento per educare, per informare, per fare riflettere, per stimolare, per stimolare. E quindi lì abbiamo incontrato questa storia. Io credo che il cinema ha una forza, una potenza, che ci aiuta veramente, ovviamente, se è un buon cinema, entrare dentro gli aspetti della vita, a conoscerli, ad approfondirli. Ha una funzione, se è un cinema fatto di grandi contenuti, di vera sostanza, di offrire non solo la fotografia, ma di offrire veramente questo graffiare un po' le coscienze, il porci delle domande, suscitare dubbi interrogativi, ma anche può essere un punto che ci va a sottolineare le positività, che ci possono e ci devono stimolare anche un cambiamento. Allora, tre elementi, io credo che siano importanti sottolineare, che ho trovato nel cinema, nella mia piccola esperienza, nella mia vita, è che un cinema intelligente, acuto, profondo, diventa un veicolo di conoscenza, che ti aiuta a entrare dentro perché le immagini aiutano e le senti vicine perché poi si gigantiscono sullo schermo e ti travolgono positivamente se i contenuti sono forti, ricchi, di grande sostanza. La conoscenza, la conoscenza fa scattare un altro meccanismo che è la consapevolezza. E la consapevolezza fa scattare che di fronte a tutto quello che vedi, che rifletti, che interiorizzi, deve scattare il senso della responsabilità. Che cosa facciamo? Da che parte andiamo? Tutto quello che abbiamo visto in quella narrazione, in quei volti, in quelle storie, in quelle immagini, cosa ti cambiano qui dentro? E' coloro che siamo chiamati ad assumerci una corresponsabilità, proprio nel pensiero che i cambiamenti che noi sogniamo e desideriamo non restino solo lì, appiccicati in quelle pellicole, su quegli schermi, ma da lì, anche un po' stibolati, ci chiamano di metterci in gioco, di fare la nostra parte, di assumerci la nostra parte di responsabilità. E forse con questa idea di cinema e del resto che Ettore Scola ha deciso di diventare presidente di Cinema Over Foundation, per segnare proprio questo ruolo particolare che scava nelle coscienze del cinema. Però volevo chiederti un'altra cosa, come è nato l'incontro con Cinema Over Foundation e che reazioni hai avuto quando ti hanno proposto di portare il cinema nei beni confiscati dalle mafie? Beh, l'incontro io mi ricordo i volti dei protagonisti di questa storia e mi ricordo che mi hanno raccontato che loro erano andati in Africa, ad esempio, usando il cinema per stimolare, dare strumenti di conoscenza, anche di prevenzione, ad esempio, sul tema dell'AIDS, no? E quindi andare nei villaggi, nei luoghi più impensati, no? A proiettare immagini perché diventa uno strumento di formazione, di informazione, uno strumento, tra virgolette, di una potenza anche educativa, no? Perché l'educazione è generatrice poi di vita, di cambiamento, che deve essere capace di stimolare anche delle domande. Il nostro dovere è stimolare delle domande e ascoltare le domande che vengono poste, ecco, perché diventa molto importante. Questo incontro con i due grandi protagonisti, con due che si sono inventati in tutto questo, e beh, sentendo un po' la loro storia, il perché hanno fatto questo e perché sono andati in giro in posti più pensati a portare quella pellicola, quei contenuti, quelli immagini, quello strumento, beh, ho detto, questa è una cosa meravigliosa. Da inesplosione. È l'intervista integrale a Don Luigi Ciotti, potete trovarla sul canale YouTube di Cinemovell Foundation. Elisabetta, purtroppo non abbiamo altro tempo a disposizione e dobbiamo chiudere. Però, appunto, è stato molto bello quello che ha detto Don Luigi Ciotti, ma immagino che riascoltarlo fa sempre un certo effetto anche quando ha raccontato, no, del vostro incontro, di quando gli avete in qualche modo proposto, appunto, di portare il cinema nei beni confiscati alla mafia. Una battuta per concludere. Voglio ringraziare, come diceva Luigi, tutto ciò nasce da un noi. se non ci fossero gli incontri, se non ci fossero le associazioni del territorio, se non ci fossero le cooperative di Libera Terra e i cittadini consapevoli e responsabili, noi non riusciremo a fare libero cinema in Libera Terra. Quindi, l'augurio, il ringraziamento è a tutti coloro che si sono spesi tantissimo per questa edizione e per le prossime edizioni. Così come succede nei progetti all'estero. tutti i nostri progetti di CineMovell nascono da un incontro. Che bello. E anche questo è stato un incontro con te, quindi a disposizione. Risentiamoci presto, anche perché immagino che state già preparando la prossima edizione. Ecco. Allora, teniamoci in contatto. Grazie Elisabetta Antonioni, cofondatrice e presidente di CineMovell Foundation per essere stata anche oggi con noi. Grazie, buon lavoro Elisabetta. Grazie moltissimo. A presto.